Anch'io voglio giocare. Ecco come passano il tempo sul set Antonella e Enrico. Capite ragazzi nelle lunghe attese che cosa si fa? E poi c'è i rossi che è lì ma rimane un tempo. Nessuno sta lavorando oggi ragazzi. Ma io non so, non lo so, non lo so di regola.